Un caldo torrido avvolge lo Zambia, una siccità senza precedenti che prosciuga il suolo fino all'ultima goccia. La terra assetata offre solo polvere. Gli animali disperati si riversano sul fiume. La tensione ha le stelle. I predatori si moltiplicano. E quando il fiume si prosciugherà non avranno più scampo. Il sole picchia sull'arido terreno. Le sacche d'aria calda dal suolo formano vortici di polvere incredibili. Superano raramente qualche metro di ampiezza, ma quel soffio rovente basta asseminare il panico. E' una delle stagioni più aride della storia e dura ormai da sei mesi. I grandi erbivori dello Zambia sono stremati. L'acqua è poca e ogni giorno devono percorrere infinite distanze per abbeverarsi. In tempo di difficoltà i gruppi familiari si compattano dando vita a grandi mandri e formate anche da migliaia di esemplari. L'alto numero riduce le possibilità che un singolo divenga preda dei leoni. anche una famiglia di elefanti è in pericolo. Gli adulti sono troppo impegnativi da attaccare, mentre i piccoli sono un facile bersaglio. E questo sembra soffrire particolarmente il caldo. In questo periodo dell'anno la vegetazione offre poco e niente e la mamma non riesce a produrre tanto latte per saziarlo. Deve sfruttare tutta la sua esperienza per farlo sopravvivere alla siccità. I leoni seguono gli elefanti, pronti ad approfittare di qualsiasi in passo falso. Vivono tutti nella valle del Luangua. Si estende per circa 800 chilometri attraverso lo Zambia sud orientale ed è una delle oasi naturali più spettacolari dell'Africa. I suoi habitat svariati, dalle pianure alle foreste, dalle selve alle lagune, costituiscono l'ambiente ideale per centinaia di specie. Qui però la vita è tutt'altro che facile. Ottobre è appena cominciato. Non cade una goccia di pioggia da aprile. A mezzogiorno il termometro tocca i 43 gradi Celsius. Ottobre è sempre un mese ostile da queste parti. Quest'anno sembra ancora più spietato. Gli effetti di El Nino non erano così estremi dal 1950. Questo fenomeno meteorologico planetario ha accentuato la siccità. Le sorgenti sono evaporate con un mese di anticipo. Le lagune si sono completamente prosciugate. bufali cercano disperatamente l'acqua. E non sono i soli. Questo ippopotamo anziano è stato costretto ad abbandonare la sua casa nella laguna scomparsa per raggiungere l'unica fonte d'acqua rimasta della valle. Il fiume Luangwa. è uno dei fiumi più grandi e impetuosi dell'Africa. In questo periodo dell'anno però rispetto alla stagione delle piogge è profondo soltanto pochi centimetri. Tuttavia non smette di scorrere e i punti più profondi, quanto mai ambiti, sono pattugliati dai capospiaggia, gli ippopotami dominanti. Sempre più ippopotami si accalcano nell'unico specchio d'acqua abbastanza profondo da sommergerli. Si tratta della più grande concentrazione di ippopotami del pianeta. Più di 300 esemplari che si contendono un unico spazio. È il momento più stressante dell'anno per gli ippopotami. I capi spiaggia accettano malvolentieri l'arrivo di altri maschi ansiosi di ristorarsi. Questo per esempio comincia a innervosirsi. Spargere i propri escrementi è un chiaro segnale di aggressività. Un messaggio esplicito. Via da qui. Per l'anziano della laguna trovare l'acqua è un enorme sollievo. ma il fiume potrebbe non essere un'oasi ancora a lungo. Per il momento si trattiene in acqua bassa, lontano dalla pozza principale. Non deve farsi scorgere per evitare lo scontro con il capo. Cosa che invece non preoccupa la piccola del gruppo. Lei vuole fare amicizia con qualche altro ospite del fiume. Le buffaghe bisticciano per chi deve strigliarla. Persino su un ippopotamo neonato ci sono parassiti da eliminare. Hanno i becchi taglienti e le ferite che procurano possono essere fastidiose, ma i vicini da temere sono ben altri. I coccodrilli del Nilo raggiungono anche i 6 metri di lunghezza e sono provvisti di più di 60 denti. Un piccolo ippopotamo rappresenta un pasto sostanzioso. Persino i coccodrilli più grandi non rischiano però di attaccare un cucciolo circondato dalla sua famiglia. Con zanne lunghe anche 30 centimetri, che affilano strofinandole tra loro, gli ippopotami possono spezzare in due un coccodrillo con un solo morso. Attaccare una preda simile è troppo rischioso per i coccodrilli. Giorno dopo giorno il livello dell'acqua si abbassa sempre di più, esponendo un ricco banchetto stagionale. I coccodrilli avvertono un movimento nell'acqua e si allineano alla foce del canale. In attesa. Un gigantesco pescegatto e ancora un altro. Con l'acqua bassa i pesci rischiano di restare intrappolati in queste pozzanghere. Devono nuotare verso acque più profonde, sfuggendo così alle trappole dei coccodrilli. I coccodrilli non masticano, ma smembrano la preda sfruttando il peso del corpo. I più piccoli corrono ad accaparrarsi gli avanzi. E quando il sangue dei pesci tinge l'acqua di rosso, ne arrivano altri per unirsi al banchetto. Persino un'aquila dal collo bianco di passaggio si assicura qualche briciola. Per sopravvivere alla stagione secca bisogna saper sfruttare ogni singola occasione. Dal letto del fiume emergono legnetti immersi lì da sempre. Le libellule si affrettano a rivendicare questo nuovo territorio. È il luogo perfetto in cui deporre le uova. E i maschi devono difenderlo. Per sopravvivere alla stagione secca di rispondrezzi. E i maschi devono difendere alla stagione secca di rispondrezzi. Facendo attenzione però a non diventare il pasto di un altro asso volante Il gruccione carminio meridionale Arriva sul fiume Luangua per fare il nido lungo le sponde prosciugate In ottobre le colonie sono ben consolidate Decine di migliaia di uccelli Le coppie fanno a turno per proteggere il nido, per sedersi sulle uova o per uscire alla ricerca del cibo Le libellule rappresentano un pasto succulento, ma i gruccioni preferiscono le api Il segreto è disarmare la preda prima di divorarla E la tecnica è semplice Disintegrarla Una volta neutralizzato il pungiglione L'ape si può ingoiare senza rischi L'esoscheletro di un insetto però non è del tutto digeribile Ogni giorno i gruccioni rigurgitano anche sei palline di residui come questa Con 1500 battiti d'ali al minuto possono effettuare manovre di altissima precisione Acrobazie di tutto rispetto Ma che possono far perdere la concentrazione In una colonia così popolata Non è sempre facile ricordare dove è infilata la propria casa Cerca di attirare l'attenzione Si fa vedere Le coppie di gruccioni si dividono i compiti Ma ci vuole tanta pazienza E alla fine Ritrova il suo cunicolo In questo periodo dell'anno Il fiume Luangua è l'ultima risorsa di acqua della valle E attira animali da ogni latitudine Per i leoni le sponde sabbiose sono un punto di avvistamento di potenziali prede che vanno ad abbeverarsi Il cucciolo di elefante è visibilmente debole Il caldo lo ha stremato Le famiglie di elefanti sono molto unite sotto la guida di una matriarca esperta Questa madre conosce bene i leoni Il piccolo avanza stretto tra i più grandi Che lo proteggono facendo da scudo La migliore difesa è l'attacco Gli elefanti attaccano prima che i leoni tendano la loro imboscata Il piccolo avanza stretto tra i più grandi Grazie alle sue guardie del corpo, il piccolo è salvo. E l'intera famiglia può dissetarsi in pace. A metà ottobre, la siccità raggiunge livelli che qui non si registrano da decenni. Centinaia di zampe e bocche affamate trasformano le pianure in conche polverose. Non è rimasto quasi niente da mangiare per l'antilope. I facoceri invece non si limitano a cercare in superficie. Strappano le radici sepolte e i bulbi in profondità. Sembrano nati per scavare. Il muso piatto sembra una vera e propria cazzuola. I cuscinetti callosi sugli arti anteriori sono ginocchiere naturali. E le lunghe ciglia proteggono gli occhi dalla polvere. Questo maschio di un anno sfoggia una raffinata tecnica di estrazione. Ha un naso che non perdona. Per alcuni animali la stagione secca rappresenta un vantaggio. Qualche mese fa in questo canale scorreva un ruscello che alimentava il grande fiume Luangua. Ma dopo sei mesi senza pioggia e con temperature roventi sul suo letto non è rimasta neanche una goccia. Il suo percorso a zigzag però è una via d'accesso al territorio delle antilopi. E questa anziana femmina di leopardo, Camuti ha imparato a sfruttarlo per andare a caccia. Gli ultimi bocconcini d'erba crescono vicino ai bordi del torrente e il fuoco e l'impala ne vanno matti. Camuti è sotto vento, completamente invisibile alla sua preda. Deve solo avvicinarsi per sferrare il suo attacco. Per il balzo decisivo deve essere ad almeno cinque metri dalla preda. All'orizzonte però c'è un grosso ostacolo striato. Le zebre sono troppo grandi da sopraffare e se si accorgono di lei lanciano l'allarme e svelano il suo nascondiglio. La pazienza è parte integrante della vita di un leopardo. Può starsene immobile in silenzio per ore in attesa del momento giusto per colpire. E quando finalmente le zebre si spostano entra in azione. E quando pcerna risconi Oggi La siccità non dà tregua e i liquidi che riesce a ottenere dalla preda sono importanti quanto la carne. Non sono solo gli animali che devono adattarsi per sopravvivere alla stagione secca. Due mesi fa questa savana con alberi di mopane era un trionfo di foglie. Adesso i rami spogli sembrano quasi biscottarsi al sole. La strategia di questi alberi è mettere in pausa il metabolismo. In attesa che passi la siccità in uno stato di animazione sospesa. Nel tronco secco e fissurato di un albero c'è una strana protusione simile a cera. È il tunnel di ingresso per un nido di api dei mopani. Queste minuscole api senza pungiglione sono lunghe solo 3 mm. Colonizzano i tronchi vuoti riparando le crepe con un misto di cera e resina. La stessa sostanza che usano per realizzare l'ingegnoso ingresso. L'imbuto appiccicoso aiuta a bloccare gli intrusi. Le sentinelle di guardia sono pronte a usare i feromoni per mandare il segnale di un pericolo imminente. Le api indaffarate trasportano carichi di polline per nutrire tutto lo sciame. Mentre gli alberi di mopane fanno cadere le foglie per risparmiare energie durante la siccità c'è un altro albero che fa l'esatto opposto. Fiorisce. In ottobre la chigelia africana è un'esplosione di colore. Questa fioritura in tempi di magra è un ricco banchetto per gli impollinatori ed è così che si assicura la sopravvivenza. Questi fiori succulenti e pieni di nettare dolce sono un dono prezioso per dozzine di specie nel periodo più difficile dell'anno. Grazie alla lingua molto lunga gli scogliattoli di Smith raggiungono il nettare che si raccoglie in profondità nelle campanule. Gli inseparabili di Lilian usano i becchi flessibili e uncinati per estirpare stame e polline. E non c'è fiore troppo lontano per il cercopiteco verde. Grazie a tutti per me. non va sprecato. I fiori al suolo forniscono un importante rifornimento di liquidi e nutrienti per un'antilopo estremata. Per una volta le antilopi possono godersi un pasto all'ombra, al riparo dal sole. Il termometro può toccare i 37 gradi Celsius. Il fiume si prosciuga giorno dopo giorno. Gli ippopotami si accalcano come sardine. Per un piccolo ippopotamo è una prova difficile. Gli adulti pesano 20 volte più di lui. E più aumenta la tensione, più gli animi si surriscaldano. Meglio restare vicino alla mamma. L'anziano che aveva abbandonato la sua laguna prosciugata è riuscito a tenersi fuori dai guai. Ma ora deve cercare acque più profonde, altrimenti il caldo rischia di ucciderlo. Il livello dell'acqua si abbassa e i banchi di sabbia emergono in superficie. L'unica fonte d'acqua rimasta nella valle è quasi prosciugata. Gli animali disperati si riversano sulle sponde del fiume. Arriva anche la grande mandria. Un bufalo ha bisogno di bere circa 34 litri di acqua al giorno. Ma anche a ritmo di 5 litri e mezzo al minuto ci vuole tempo per raggiungere la meta. Mentre i bufali sono impegnati nell'impresa, i leoni si avvicinano. Gli animali che si stanno abbeverando sono tanti e i leoni non sanno che preda scegliere. L'unione fa la forza. È la strategia vincente dei bufali per tenere alla larga i predatori. Ma c'è sempre quello più debole e più vulnerabile. Viene catturato. Ma uno su mille in fondo è un piccolo prezzo da pagare. Mangiare è un'attività faticosa e sotto il sole può diventare estenuante. La preda del leone è un regalo a sorpresa per le farfalle. Nell'addome del bufalo ci sono liquidi e minerali, più che mai graditi in tempo di siccità. Grazie. Buone notizie per il piccolo elefante I leoni sono sazi e stremati Una bella preoccupazione in meno La matriarca ha superato più di 50 stagioni secche Ed è sopravvissuta a 18 e il nino La sua famiglia quindi è in ottime mani E' saggia ed esperta Ce l'ha fatta anche questa volta Ha trovato un fico Ha udito e riconosciuto il richiamo di un gruppo di babuini E ha condotto la sua famiglia al banchetto C'è una tale abbondanza di frutti Che i babuini possono permettersi di fare gli schizzinosi Fichi succulenti Proprio ciò che serviva agli elefanti Mangiando la mamma può produrre abbastanza latte per il suo piccolo Ottobre sta per terminare Ma la siccità non sembra allentare la sua morsa L'acqua del fiume è talmente bassa che potrebbe prosciugarsi del tutto Cosa che non accade da più di vent'anni I piccoli ippopotami non si accorgono della differenza Ma gli adulti cominciano a patire Il capo spiaggia pattuglia il suo prezioso territorio Un'increspatura dell'acqua vuol dire che c'è un intruso È l'anziano della laguna Alla disperata ricerca di acque profonde Il capo spiaggia avanza Il movimento della coda è un segnale eloquente della sua furia Il vecchio maschio potrebbe arrendersi e ritirarsi Ma deve rimanere lì Perché senza acqua è destinato a morire E quindi mantiene la sua posizione Ma il capo spiaggia è stufo dei maschi rivali Che invadono il suo territorio È pronto ad esplodere Spalancano la bocca Mostrando ognuno le proprie armi Zanne da 30 centimetri Affilate come lame E incisivi d'acciaio Di solito è sufficiente per affermare la propria forza E la propria superiorità Ma questi due maschi sono alla pari Pesano tre tonnellate ognuno E sono talmente forti da poter sollevare l'altro Gli altri ippopotami cominciano ad agitarsi Il piccolo spaventato corre dalla mamma Che non potrebbe trovarsi in un posto peggiore Di una mandria in preda al panico Che non potrebbe trovarsi in un posto peggiore Che non potrebbe trovarsi in un posto peggiore Lo scontro tra titani è terminato. Il capospiaggia ha avuto la meglio. Sconfitto ed esiliato, l'anziano ipopotamo si allontana barcollante. I coccodrilli sentono odore di facile preda. Ma non è lui che cercano. Nella confusione generata dal sanguinoso duello, il piccolo ipopotamo è rimasto schiacciato. Gli ipopotami adulti sono abituati a questo tipo di lutti, tristemente frequenti, durante la stagione secca. I giovani, invece, sembrano incapaci di accettarlo e cercano di allontanare i coccodrilli dal piccolo cadavere. C'è tanta confusione e tanto dispiacere. I giovani, invece, sembrano i coccodrilli dal piccolo cadavere. Gli elefanti sono stati più fortunati. Grazie alla saggezza della matriarca, l'intera famiglia è sopravvissuta. È una delle stagioni secche più feroci della storia e non è ancora finita. Per il vecchio ipopotamo il futuro non è luminoso. Esiliato e ferito potrebbe non rivedere mai più la pioggia. Ma l'aria sta cambiando. In lontananza si addensano le nubi. Quando la pioggia tornerà a rigenerare le valli assetate, troverà una nuova generazione ad attenderla. Nella valle dell'Uangua la vita continua. Nella valle dell'Uangua la vita continua. Grazie. Grazie.